La paura, lo sconforto, il ricovero, l'intervento chirurgico, ma adesso, fortunatamente, di nuovo il campo, la corsa, gli allenamenti, i compagni e prima o poi anche la partita. Daniele Degano è pronto per tornare ad essere un calciatore dell'Ancona a tutti gli effetti. L'opneumo torace è solo un brutto ricordo. Un mese fa si ripropone il disagio di bolle d'aria nel polmone sinistro. Degano ha già sofferto di ciò due anni fa quando giocava per l'Alessandria. Anche allora si rese necessaria un'operazione. Stavolta è stata maggiormente invasiva. L'equip del dottor Salati, ex collaboratore medico all'Ancona di Paolo Minciotti, ha effettuato un intervento di routine che però ha abbassato al minimo le percentuali che l'opneumo torace possa ripresentarsi. Superato tutto, Daniele è già con i suoi compagni. Sta recuperando la forma seguendo un programma, stabilito d'accordo con lo staff medico. Da martedì prossimo si aggregherà al gruppo, effettuando tutto il lavoro anche con la palla. Di fatto, per la gara contro l'Agnonese del 9 di febbraio Degano sarebbe disponibile. Poi deciderà Mr. Cornacchini. Anche perché, là davanti, la concorrenza, se possibile, si è fatta maggiormente livellata. Non solo Bondi e Pazzi, ma anche Cazzola, Morbidelli e Sivilla sugli esterni, senza contare che pure Diogo Tavares potrebbe rientrare nei ranghi dopo la frattura a radio. Ma forse, quello che è più importante per Degano è che l'opneumo torace sia solo un brutto ricordo e che adesso possa pensare solo ed esclusivamente a fare il calciatore e dare il suo contributo alla promozione dell'Ancona.